Buonasera a tutti, sono Marco Ferrario, studente del quinto anno di giurisprudenza e assegnatario del premio di merito per il quarto anno consecutivo. Desidero ringraziare tutti gli enti e le associazioni che hanno sostenuto e continuano a sostenere noi ragazzi attraverso incentivi economici quali borse di studio e premi di merito. Premiare la volontà e l'impegno degli studenti è uno stimolo e un impegno sempre costante e serve a fissare degli obiettivi, a credere nelle proprie capacità e nella forza delle proprie scelte. La vostra generosità mi ha consentito di raggiungere in tempo gli obiettivi che mi ero prefissato e mi ha aiutato a investire sul mio futuro. I giovani sono una risorsa per il futuro e l'Università Liuc in questi vent'anni ha sempre creduto in loro facendo una valorizzazione delle eccellenze uno dei suoi punti di forza. Ringrazio quindi anche l'Università Liuc per avermi dato un'ottima preparazione supportata da numerose esperienze pratiche. Durante il ciclo di studi ho infatti partecipato a diverse attività come laboratori esperienziali che hanno richiesto un contributo personale al fine di risolvere dei casi pratici e hanno sviluppato anche la capacità di lavorare in gruppo in una squadra. Ho partecipato inoltre alla National Mood Court Competition organizzata da Elsa Castellanza in qualità di law clerk e ho appena terminato un periodo di stage presso il tribunale di Bussi Orsizio, di Gallarate e di Saronno affiancando dei magistrati nella sezione civile e penale. È stata un'esperienza molto interessante dal punto di vista professionale che spero di poter ripetere in futuro. Adesso conto di laurearmi, di trovare un lavoro che mi permetta di crescere e migliorare ulteriormente e continuare gli studi iscrivendomi alla scuola di specializzazione per la professione forense. Quello che ci avete donato non è soltanto un contributo economico ma la voglia di continuare a lottare, ad andare avanti e soprattutto cercare di donare quello che a mia volta è stato donato. Sono stati cinque anni bellissimi con delle persone fantastiche. Grazie a tutti, grazie di cuore.